Il Consiglio Comunale di Ariano Erpino accelera sulla richiesta, inoltrata la Regione Campania, di entrare a far parte della struttura della comunità montana e lo fa presentando agli uffici di Palazzo Santa Lucia una delibera votata all'unanimità dal civico consesso, presentata dal consigliere Federico Porro che ha curato l'iter dell'attuazione. Porro spiega quali sono le motivazioni di questa scelta politica. Una legge finanziaria fatta nel 2008 dal governo Prodi con la quale immaginava un risparmio di tipo economico iniziando dalle comunità montane e quindi facendo una esclusione per la città di Ariano. Da qui cominciano a nascere una serie di problemi di tipo economico per le comunità montane, non avendo più il finanziamento nazionale, dava la facoltà alle regioni di decidere se eventualmente sopprimerle le comunità montane oppure che si autofinanziassero. Un ente pubblico, se la Regione Campania non invia i fondi, diventa difficile e complicato. Quindi diciamo che le comunità montane e i dipendenti tutti stanno soffrendo la mancanza di liquidità. Quali sono i vantaggi che il Comune di Ariano potrebbe trarre da questa delibera che ha approvato l'unanimità? Il Comune di Ariano, essendo città capofila nella gestione amministrativa di un ente come quello della comunità montana, ha il potere, entrando in questo ente, di gestire la parte dei finanziamenti con le relative risorse umane che la comunità montana ha.